Benvenuti amici cinofili a un altro episodio della Via del Cane, in mia compagnia come al solito Kira e quest'oggi vi presento anche un altro membro della mia famiglia a quattro zampe, Mila, un carlino di 9 anni femmina. Spero che abbiate passato tutti un buon Natale in compagnia dei vostri cari e dei vostri amici animali. Si avvicina un periodo molto delicato per i nostri amici a quattro zampe, ovvero la notte di Capodanno. A causa dei botti, dei fuochi d'artificio, delle miccette, dei petardi, delle fontane cinesi e di ogni altra diavoleria che esplode, migliaia di cani ogni anno scappano, si fanno male o muoiono di infarto. Occorre precisare che non tutti i cani sono sensibili allo stesso modo ai botti e ai fuochi d'artificio. Cani come Mila non hanno molti problemi con i fuochi d'artificio perché è praticamente sorda. Ma Kira, ad esempio, è molto preoccupata dai fuochi d'artificio. Eccovi quindi 5 consigli per rendere il Capodanno un pochino più piacevole per i vostri cani. Primo importante consiglio, non lasciate i cani all'aperto. Per aperto intendo balconi, giardini, terrazzi, portili. Non lasciateli fuori. Quando i cani sono all'aperto e sentono il rumore dei botti e ne sono terrorizzati, il loro primo istinto è quello di fuggire. Quindi il grande rischio è quello che cani che normalmente non scavalcherebbero mai la recensione del giardino si diano alla fuga. Dovrò farsi male nel tentativo di scappare. Infine, non sono pochi i casi di cani che muoiono di infarto a causa del rumore dei fuochi d'artificio. Consiglio numero 2. Lasciate i cani liberi di andare a nascondersi nelle loro cucce, negli armadi sotto il letto. Siate un pochino più tolleranti. Anche dove di solito non permettete al cane di andare. Se il cane vuole andare a nascondersi lì, permetteteglielo. È molto importante che i cani, ancora per la loro ancestrale memoria della tana, abbiano un ambiente sicuro in cui chiudersi e nel quale sopportare meglio le paure per i rumori esterni. Il terzo consiglio, l'avrete forse letto o sentito, è quello di tenere molto alto il volume della televisione, in modo da coprire il rumore dei botti all'esterno. Se il vostro cane non ha paura del volume alto della televisione, è un'ottima soluzione. Vi permette di stare in casa con il vostro amico a quattro zampe, di non dover uscire e di proteggerlo dai rumori forti. Sicuramente non incorrerete nelle ire dei vicini per il volume alto, dato che è capodanno. Yeah, casino! Consiglio numero 4. Molto controverso, molto discusso. Bisogna coccolare il cane che ha paura, oppure no? Avrete spesso sentito dire che non bisogna coccolare il cane impaurito dai botti perché così facendo si rafforza la paura. Io personalmente non sono d'accordo con questa teoria, che trovo poco scientifica. Infatti possono essere rinforzati comportamenti, ma non stati emotivi. Sostenere che coccolare il cane rinforzi la paura significa travisare la teoria dell'apprendimento e ritenere che il rinforzo possa essere applicato a stati emotivi, cosa che non è possibile. Gli stati emotivi possono al massimo essere cambiati, se si è in grado di cambiarli, ma non rinforzati. Io trovo che sia disumano il consiglio di ignorare le richieste di attenzione del cane. D'altra parte, chi vorrebbe essere ignorato mentre sta chiedendo aiuto perché ha paura? Pertanto il mio consiglio è quello di cercare di far restare il cane in uno stato emotivo positivo, giocare con lui. Se viene a chiedervi coccole, coccolatelo assolutamente, senza alcuna remora. Evitate, casomai, di amplificare i suoi stati emotivi. Evitate, cioè, di fare da megafono alla sua paura. Se il cane è impaurito, non siate impauriti nel vederlo impaurito. Infine, ultimo consiglio che vi do. Fate, se possibile, per questo capodanno, una scelta pro cane. Scelta pro cane significa una località di montagna, al mare, lontano dai fuochi d'artificio, in campagna, in un posto isolato. Sono posti che i cani amano moltissimo e sicuramente un cane spaventato dai botti lo preferirà 10.000 volte rispetto alla città. Sarete fuori dal mainstream dei botti, delle miccette, dei fuochi d'artificio? Personalmente la scelta che faccio già da qualche anno con Kira è quella di caricarmela in macchina alle 11.30, nel tragitto facciamo un pezzo di autostrada e riportarla a casa a mezzanotte e mezza, quando il grosso dei fuochi d'artificio si è esaurito. Questa è stata la mia scelta personale e non deve necessariamente essere la vostra scelta personale. Io vi auguro di passare uno splendido capodanno, lontano dai botti, con i vostri cani, in tranquillità. Vi auguro un 2020 strepitoso. Iscrivetevi al canale e se avete dubbi o volete che affronti nei prossimi video dei temi specifici, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi cosa ne pensate e soprattutto voi, come affrontate i botti di capodanno con i vostri cani? Nei commenti scrivetemelo, confrontiamoci, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon anno!